VICINI DI STALLA GINGLE BELL GINGLE BELL GINGLE BELL ROCK E' proprio come avete richiesto voi Ampio bilocale, spazioso, ben illuminato e soprattutto silenzioso Ma che ne è? Non è possibile BAST! ALL'ALMEGY BELL! Ma che l'ha da parte? BAST! ALL'ALMEGY BELL! Tu qua dentro non puoi imporre proprio niente, capito? I romani della casa mi non ce ti voglio, che è la porta? Vamo a te, no? Ah, Pecorino! Devi stare molto calma e molto attenta Perché io ho un sacco di amici importanti Si, signor Arcadio Chiamami pure rabbino Oltre a signor Arcadio Solo rabbino Vabbè, signor solo rabbino Lui si, effettivamente siamo d'accordo E invece come sono le romane? Le romane che abitano a fianco alla propria stalla Come sono queste romane? Come? Coccole! Coccarone! Le coccole che ci fanno a noi! Ma tu sei proprio... BAST! Due sono le cose Se fate questa cosa per me vi pigliate i soldi per andare Oppure vi ammazzo tutto quanto Asina compresa Alza che le apri Ci siamo spiegati o no? Solo che queste cose non ne faccio Oh me merda Buongiorno! 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 Le buonno! Grazie a tutti